Buongiorno a tutti, sono Marco Schiavon, docente presso l'Università degli Studi di Padova, in qualità di professore associato di chirurgia, ma soprattutto direttore del Master di Case Management Chirurgico e Gestione dei Percorsi Integrati tra territorio ospedale, modelli, metodologia, ricerche e applicazioni dell'intelligenza artificiale, promosso dal nostro Ateneo. Sono Flavia Masiero, lavoro all'azienda ULS6 Uganea, nell'area della direzione delle professioni sanitari del territorio, mi occupo dell'area delle cure primarie e cure pariattive, inoltre coordino il servizio di assistenza domiciliare del distretto Alta Padovana, del presidio ospedaliero di Campo San Piero. Il Master forma figure professionali di care e case management in grado di prendere in carico globalmente la persona e la famiglia, con percorsi di cura e di assistenza dell'utente e supporto dell'equipo multiprofessionale e multidisciplinare, sia in ospedale che in territorio. Il Master è un programma di formazione avanzata unico nel suo genere che si propone di integrare competenze sanitarie cliniche specialistiche con capacità di ricerca e metodologie di applicazione dell'intelligenza artificiale. Si articola in tre percorsi relativi al paziente con programma chirurgico non oncologico con dimissione precoce e recupero funzionale nel territorio, al paziente oncologico cronico, fino al paziente trapiantologico. Per accedere al Master è necessaria ovviamente la laurea in medicina o la laurea in infermieristica o la scuola regionale infermieri e la conoscenza della lingua italiana. Non sono richieste invece c'è specifica formazione ed esperienza in setting clinici o gestionali relativi al case e al care management. Gli obiettivi del Master sono molteplici che vanno dal management nella rete dei servizi, alla conoscenza di un ottimo modello organizzativo del case management e del care management, al governo clinico, la qualità e la sicurezza delle cure, fino alla ricerca clinica, dalla progettazione alla conduzione di studi clinici, costruzione e validazione degli strumenti di raccolta dati, analisi dei dati e loro pubblicazione, fino all'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa, machine learning, text misting e modelli previsivi. Una parte importante del nostro Master è dedicata all'intelligenza artificiale. Il tema non è solo un fatto di moda, in realtà l'intelligenza artificiale sta trasformando il modo con cui si fa assistenza e ovviamente è il modo con cui si fa ricerca. Modelli previsivi ci permettono di guidare l'assistenza del paziente in maniera tale da ottimizzare sia la terapia ma anche la gestione generale del paziente. E questo basterebbe, l'importanza di questo già la si capisce. Pensate che il Journal of American Medical Association ha dedicato un open call sui modelli previsivi in ambito clinico, questo solo per dare il peso di quello che è lo sviluppo della disciplina. Ma altrettanto vengono aperti una serie di scenari di enorme importanza. Pensiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per decodificare dati testuali, classificandoli e rendendoli quindi utilizzabili ai fini di analisi statistiche. Dire analisi statistiche vuol dire monitoraggio di quello che sta avvenendo in ambiti prima completamente inaccessibili. Pensate semplicemente al tema dell'analisi di diari infermieristici, delle cartelle cliniche, dei referti di dimissione. Un'enorme quantità di informazioni inutilizzata di fatto ai fini del persiglio sanitario dei pazienti. Ecco, quando parliamo di queste cose non dobbiamo dimenticare lo sviluppo che avranno le wearable devices, ovvero la raccolta di informazioni sugli stili di vita che viene in maniera trasparente rispetto all'utente. Pensiamo a tutti i dati di frequenza cardiaca, ossimetria, frequenza respiratoria, attività fisica che normalmente in nostri smartwatches producono e che sono messi a disposizione del clinico o dell'infermiere per capire effettivamente come sta il paziente, le proxie di qualità della vita più moderne che noi possiamo immaginare. Ecco, tutto questo per dire che un master che si occupa di questi argomenti non può prescindere non dallo sviluppo, per cui si vengono richieste altre competenze e altri livelli anche matematici, ma per l'utilizzo consapevole e finalizzato di questi strumenti che fanno parte già e che faranno sicuramente parte nei prossimi dieci anni di qualsiasi iniziativa di ricerca innovativa che si vorrà intraprendere in questo settore. Con questo master vogliamo fornire ai nostri studenti la possibilità di vari sviluppi e sbocchi professionali, con particolare riferimento alla possibilità di lavorare nell'ambito di istituti di ricerca qualificati e centri trapianto, soprattutto in qualità di infermieri professionali. Indubbiamente anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, fornendo assistenza ai pazienti e ai loro caregiver nella rete territoriale quotidiana. Nell'ambito dell'ospice e quindi dei centri di cure palliative per migliorare la qualità di vita dei pazienti in fase terminale. In istituti di ricerca, dove possono ovviamente lavorare nell'ambito dello sviluppo e delle progettualità nell'ambito della ricerca, fino allo sbocco professionale nell'ambito delle aziende tecnologiche, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla digitalizzazione della sanità. Il tirocino del master rappresenta una componente fondamentale del percorso formativo. Esso offre agli studenti l'opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite con le lezioni in un contesto reale, sotto la supervisione di professionisti esperti. Le aziende e sedi di tirocino saranno l'azienda Ospedale Università di Padova, l'azienda Ursus Euganea e l'istituto oncologico Veneto IRCS. Inoltre il comitato ordinatore del master, in collaborazione con il servizio post laurea dell'Ateneo, sta lavorando per costituire un ventaglio di maggiori dimensioni di strutture disponibili come sedi di tirocino, anche nell'ottica di favorire una diretta ricaduta per chi conseguirà il titolo nell'ambito dei potenziali sbocchi professionali. L'obiettivo del tirocino sarà quello di creare un'esperienza per lo studente creata su misura secondo le proprie esigenze formative, in grado di coniugare le necessità di vita e lavoro. Per la scelta della sede di tirocino si terrà conto delle preferenze espresse dallo studente in sede di colloqui individuali. Il tirocino è strutturato per coprire diverse aree di competenza distribuite su vari periodi e in differenti contesti clinici. La calendarizzazione del tirocino avverrà su base individuale e presumibilmente nei periodi estivi. Per poter accedere al tirocino sarà necessario aver superato positivamente i moduli formativi propedeutici. Per quanto riguarda la didattica del master, tutta l'attività verrà prodotta e messa a disposizione degli studenti attraverso una piattaforma interattiva multimediale che è la piattaforma Moodle che ci dà la possibilità di mettere a disposizione degli studenti le lezioni video registrate in modo da poter essere fruibili on demand, quindi sulla base delle disponibilità degli studenti. Quindi la lezione può essere fruita quando lo studente è disponibile a tempo per poterla seguire. Naturalmente le registrazioni possono essere anche fruite più volte dallo studente. L'importante è completare l'attività svolta all'interno del modulo in cui è suddivisa l'attività formativa. Il modulo è un insieme di lezioni che sono naturalmente corredate anche dal materiale di supporto fornito dal docente e dal materiale di eventuale approfondimento per supportare lo studio individuale. Al termine del modulo, che è composto di alcune lezioni di una durata variabile in termini di ore di lezione registrata ogni settimana, permette poi di arrivare al momento di verifica dell'apprendimento che avviene attraverso una procedura di test a completamento del modulo che permette anche allo studente naturalmente di valutare, di ricevere un feedback immediatamente rispetto al profitto, rispetto alla qualità dello studio, rispetto alla parte di studio individuale che naturalmente è chiesto allo studente all'interno del singolo modulo. Attraverso un programma completo e integrato i nostri studenti possiederanno un know-how e una preparazione che li renderà pronti alla gestione del paziente nel continuo tra ospedale e territorio, contribuendo inoltre al progresso della ricerca in ambito sanitario e all'avanzamento delle tecnologie per renderli in grado di essere i professionisti del domani. Per quanto riguarda le modalità di prescrizione, discrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica o il sito di Unismart o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione il sito del ministero della funzione pubblica per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Attraverso il protocollo PA 110 LODE infatti ci sono una serie di agevolazioni tra cui mi permetto di richiamare esclusivamente per ora lo sconto lineare di 330 euro per quanto riguarda l'iscrizione al master. Ma vi consiglio davvero di andare a consultare i pertinenti siti internet per approfondire e raccogliere tutte le informazioni riservate alle agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione.